6 milioni e mezzo dei 25 sequestrati torneranno nelle tasche della famiglia Moretti, finita agli arresti domiciliari a seguito del blitz della Guardia di Finanza di Arezzo, l'accusa per l'ore di associazione a delinquere finalizzata all'autoriciclaggio. Il Tribunale del Riesame di Arezzo ha infatti in parte riformato il decreto di sequestro firmato dal GIP Pier Giorgio Ponticelli, accogliendo in parte le richieste delegali della famiglia Moretti. È stato così disposto il dissequestro di beni per 2 milioni e 312 mila euro ad Antonio Moretti, il capostipite, di 3 milioni e 945 mila euro al figlio Andrea, anche lui come il padre ai domiciliari, ed infine di 173 mila euro all'altro figlio, destinatario di un provvedimento di interdizione dalle cariche sociali. Tutto il resto, circa 18 mila euro, resta ancora sotto sequestro. Atteso invece per domani un altro verdetto, a Firenze, sempre al Tribunale del Riesame, sarà discusso il ricorso contro gli arresti domiciliari per lo stesso Andrea e per il padre Antonio. Nel mirino della Guardia di Finanza, infine, sarebbe finito anche un incontro elettorale delle ultime politiche, un appuntamento di Pier Carlo Padoan dello scorso 22 febbraio a Fogliano della Chiana, collegio in cui l'ex ministro dell'Economia si era candidato, venendo poi eletto. Il sospetto degli investigatori è che a pagare il catering sia stato proprio l'imprenditore Antonio Moretti. Le fiamme gialle dunque vogliono verificare se ci sia stato un finanziamento illecito nei confronti dell'ex ministro. Nei Moretti e ne Padoan sono comunque indagati.